Amici di youtube buongiorno oggi è il 7 di novembre 2013 ieri sera purtroppo il Milan ha perso 3 a 1 col Barcellona pazienza quindi una giornata di merda per me che avevo deciso di venire nei boschi siciliani alla ricerca del Bigfoot però mi sa che Bigfoot qua in Sicilia non ce n'è ma tutto questo solo poche breve immagini per per dirvi che qualcosina ancora certo non è come qualche mese fa che ci eravamo abituati a funghi eccezionali a crescite a nascite mostruose però tutto sommato qualcosina ancora si trova qualche bellerius di nascita un po di galletti e poco fa ho trovato questo questo è perché ho deciso di fare solo questa ripresa oggi perché volevo dedicarlo a tutti gli amici fungaioli siciliani che conosco e che in questi ultimi tempi ci hanno ci hanno contattato e ci hanno ci hanno fatto partecipi delle loro delle loro uscite questo perché perché praticamente gli volevo dire che che non è vero che tutto fermo e qualcosa ancora si muove guardate qua ancora qualcosina c'è certo bisogna farsi un po di strada un po di chilometri a meno io da ragusa infatti già ho fatto 255 chilometri stanotte e niente solo per dargli un po di speranza e fargli vedere che volta che ci sono i gallinacci ci ha piovuto sopra che ancora i funghetti ci sono e che la cosa importante non è andare a raccogliere i funghi quello che ripetiamo sempre ma è quello di andarli a cercare se si ha un piccolo spiraglio non vi arrendete e ve li andate a cercare trovatevi le zone quelle giuste informatevi dove ha piovuto bene o male e poi l'importante è sempre avere qualche amico che vi da qualche dritta quindi non mollate mai e state sempre all'alerta per chi funghi ci sono ciao ragazzi a dopo ciao ciao